Buonasera e ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life, tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Takeda si conferma tra le maggiori realtà industriali del Reatino, oggi a Roma la presentazione del piano industriale che riguarda soprattutto lo stabilimento di Pisa e quello di Rieti. Per il plan di Città Ducale è arrivato l'annuncio di circa 200 milioni di investimento sui totali 275 in 5 anni stanziati tra la sede laziale e quella toscana e la maggior parte delle 150 assunzioni previste fino al 2025 e che si sommano ai 550 dipendenti già operativi nel plan di Rietino. Solo 100 milioni di euro concorreranno all'acquisto e all'installazione di nuovi macchinari nello stabilimento di Rieti. Alla presentazione hanno partecipato anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio in video e il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Per Di Maio Takeda è un asset strategico nella partnership economica tra Italia e Giappone. Torna la pioggia sul Rietino per i prossimi giorni già da domani secondo tre bimeteo rovesci sulla città e sulla provincia con temperature minime rialzo e massime in lieve ribasso tra 2 e 14 gradi centigradi. L'arrivo della pioggia dopo diversi giorni senza rovesci preoccupa la protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dal mattino di domani, mercoledì 30 marzo e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio temporali frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il centro funzionale regionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla. Incidente intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio sulla sala aria San Giovanni Riatino al chilometro 70 più 200. Due auto si sono scontrate frontalmente. Tre le persone rimaste ferite, di cui una in modo grave, trasportata al Delellis per accertamenti e cure del caso. I vigili del fuoco dopo le immediate operazioni di soccorso hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli, uno dei quali a gas. Sul luogo dell'incidente, vigili del fuoco, 118, polizia e personale ANAS. L'ultimo bollettino Covid dell'ASL di Rieti registra una curva in leggera discesa, con il totale dei positivi che scende a 3.427. Nelle ultime 24 ore, su 2.173 tamponi, sono stati registrati 376 casi di contagio, mentre i guariti al test di controllo sono stati 515. Anche in città si vedono i primi segnali di miglioramento dopo settimane di risalita dei positivi. Nell'ultimo monitoraggio sono 126 nuovi casi e 210 negativizzati, con il totale dei positivi nel capoluogo che scende a 1.227. Si registra però anche un ulteriore decesso. Una donna di 89 anni è ricoverata al Delellis in malattie infettive. Secondo ASL si tratta di un soggetto complesso, fragile, ma vaccinato. Il Rieti torna in campo allo Scopigno domani alle 14.30 per il turno infrasettimanale del girone E della Serie D. L'avversaria è il Cannara ed è uno scontro direttissimo. Il Rieti è a 6 punti dalla salvezza, a 21 punti. Rispetto agli Umbri ne ha 3 in più. Arbitra Cevenini di Siena. All'andata vinse il Rieti 1-0 e l'avversaria sulla carta è abbordabile. Non vince da 11 turni. Il tecnico però non ha Tortolano, Matteo Menghi e Signate, mentre rientrano Perez e Tiraferri. Sull'11 titolare sarà di nuovo ampia scommessa, ma la base sarà il solito 4-3-3 con la fase offensiva affidata a Bari e a compagnia, oltre che a Coulibaly. Di calcio si parla stasera in pillole di Sportlife dalle 21 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata.